Il complesso monumentale della chiesa e del convento di Sant'Agostino di Fano nel cuore della città in via Vitruvio è un concentrato di storia e cultura cittadina. Sotto l'area del convento si trovano importanti resti archeologici di epoca romana, per secoli poi i frati agostiniani ne fecero la loro residenza stabile fino al 1798. La chiesa adiacente al convento era una delle più belle della città ma purtroppo i bombardamenti della seconda guerra mondiale nel 44 la distrussero in parte, assieme ai suoi stupendi affreschi in stile gotico del XIV secolo, tra cui quelli raffiguranti il martirio di Santa Lucia nella cappella di sinistra appena dopo l'ingresso. Ma ai giorni nostri per poterne ammirare e solo immaginare ciò che era un tempo sono gli amici dell'archeoclub di Fano che ogni anno per Sant'Agostino aprono al pubblico la chiesa e per tre giorni ne fanno un punto di incontri e dei momenti divulgativi, oltre a guidare i visitatori in questo viaggio nel tempo. Questa apertura capita una volta all'anno in questo periodo perché il 27 e il 28 agosto sono Santa Monica e Sant'Agostino, Santa Monica era la madre di Sant'Agostino. La cappella dell'angelo custode che era completa di detriti e di materiale di risulta o preso dai crolli è stata liberata per farne la misurazione esatta e quindi da quest'anno possiamo vedere non il dipinto che rimane ovviamente alla Pinacoteca, però possiamo vedere esattamente il luogo dove era conservato. Come tutti gli anni parleremo di un santo, una santa, che è ancora presente qui in chiesa ed è riconoscibile grazie alla presenza di statue e questa sera alle 21.30 parleremo di Sant'Orsola e della sua leggenda, una cosa straordinaria, poco conosciuta ma che effettivamente è molto fascinante. Ecco, Fano è ricca di chiese con tanti tesori, tanti scrigni, questo è un patrimonio forse che Fano rappresenta un unicum nel nostro territorio. Sì, certamente e soprattutto diciamo che è l'ultimo edificio che porta ancora intere le cicatrici del passaggio del fronte del 1944, quindi della guerra, però ecco da quello che si è ascoltato più volte da parte del Vescovo c'è l'intenzione di effettuare entro breve un restauro e poterlo quindi rendere fruibile tutto l'anno al pubblico.